Prova, prova Funziona Amici ben ritrovati in questo video Che è anche il primo Stay High del canale Stay High sta per qualche tempo fa Vi ho chiesto L'anagramma però viene da una frase in inglese Perché la traduzione Quindi l'anagramma dalla traduzione in italiano Veniva Che tuffo vucce No Quindi qualche tempo fa vi ho chiesto Di mandarmi i vostri file preferiti Quelli dei chitarristi famosi Ma anche di perfetti sconosciuti Ho collezionato i link senza guardarli prima Adesso li guardiamo insieme E per la serie Fate il vostro lavoro Non c'è bisogno di suonare per forza Abbiamo Johnny Depp Che ci delizia con una cover delle Zeppelin Le prime tre volte ha provato A raggiungere la nota Eeeh Niente vabbè Next Questa comincia con John Petrucci Ma siamo tutti consapevolissimi Che lui non può fare alcun fail Quindi sarà sicuramente un errore Ragazzi io non vedo nessun fail Cioè è chiaramente il pavimento che sta accadendo su John Petrucci Quindi il fail casomai è del pavimento Cioè è evidente Tutto come previsto John Petrucci non può sbagliare niente Next Questa comincia con un Kirk Hammett In smagliante forma Direi Ragazzi io amo Kirk Hammett Perché ha una faccia di culo Ha appena sbagliato un intro Che probabilmente avrà suonato un miliardo di volte E che è il primo che si suona con la chitarra in generale Quando uno impara a suonare Però guardate l'orgoglio Guardate la posizione Fiero Popo fiero Popo fiero Grande Grande Kirk Hammett So che segui il canale Ciao Kirk No dai di nuovo i Metallica No ti prego Kirk Non di nuovo tu All'inizio ero convinto che il fail Fosse che James avesse una telecaster Che proprio No Non ha senso questa cosa Bambini oggi Johnny e Kirk Ci hanno insegnato che non bisogna mai usare lo slide dal vivo Ah ok Questa è famosa Questa è famosa Ragazzi che cazzo io solo ho fatto sto qua Cioè non Nick Jonas Perché adesso andiamo a vedere quello vero Nick Jonas everybody Vai Nick Jonas Oh Dio Non lo posso vedere Non lo posso vedere Che cringe ragazzi Sembra uno di quei video Dove ci sono quei monaci sholin Che si prendono quei calci Nelle parti basse Tu stai là li guardi E dici Ah Dick Uguale Nick Jonas e Johnny Depp Torniamo insieme alla Disney Posiamo le chitarre Evitiamo ste cagate Per favore Prossimo fail Ci siamo ecco Finalmente lo sapevo che c'era lui Per forza in questa lista Lui è gasato Sì ho sbagliato Sì Quanzi slash è slash Lui può fare quello che cavolo gli pare È stato l'eroe di tutti noi Esistono due tipi di chitarristi Chi ha avuto slash come idolo da ragazzino E chi mente Perché tutti abbiamo avuto slash come idolo Ragazzini Per forza Slash e le dipendenze parte 2 Ragazzi la cosa più bella Sono le facce della band Guardate sti due qua Che cazzo sta facendo Slash bisogna prenderselo come viene Ed era un po' Era proprio lucidissimo Slash Che cazzo sta facendo Forse Forse qua Forse qua Ho fatto cacare Ho fatto cacare Va bene? Allora non mi venite a dire che questa è una cosa di personalità L'ha fatto perché a lui veniva così Perché anche se fosse questo Comunque alla fine ha fatto cacare Ecco qua palesemente Ozzy Osbourne Ha capito che si sta trovando a un concerto Non è a casa sua davanti alla televisione Va bene Mi avete rovinato l'infanzia Anche slash Fu sbagliare Grazie a tutti Slash non poteva sbagliare Quando io avevo 14 anni Direi di mettere da parte un attimo le superstar Ci andiamo a gustare qualche ottimo fail Qualche fail croccantissimo Di poveri disgraziati Come noi Fermi tutti perché già da qua possiamo raccogliere informazioni importantissime Degli ottimi consigli Quando parte la canzone e non vi ricordate più manco come vi chiamate Tipo questo Ecco la tecnica che vi salverà il culo E passa la paura si va avanti a testa alta Il presentatore Eh loro sono la band È tutto a posto Si salutano così a casa È forte immaginarsi la scena no Prima del palco L'hai fatto il pezzo Lo sai il pezzo Cioè certo L'ho fatto Mangiò topi ibernati da un mese Quindi suonalo bene Che è la nostra unica occasione L'ho imparato la chitarra E invece non l'aveva imparata Hi Come fare un'elettrica Well non lo so Ma dal nome di lui È solo una combinazione di guitarra e elettricità Questo tizio ha appena detto Ecco come costruire una chitarra elettrica Dice che non sa come si fa Però dal nome si capisce che è elettricità più una chitarra Here is a simple one I made Here is the basic electric guitar I made with four strings We can add more strings if you want to Strings are just wires stretched over a piece of wood Tie to nails on each end The wires at this end are tied together in pairs as you can see And each pair Somigliarci ci somiglia Is attached to one of these cables Which we can plug them into the wall power plug Please join me for the first time to hear how it sounds And one, two, three, four Cioè è fatta apposta vero? Hear how it sounds And one, two, three, four Cioè i beep rendono tutto ancora più divertente Forse ancora più bello di tutto l'intero video Ragazzi questo è tutto per il primo stai ai del canale Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il format Così che io vi possa proporre altre cose da mandarmi Come tutto nella vita però anche questo video è una morale E oggi abbiamo capito tre cose fondamentali Che gli attori è meglio se fanno gli attori Che le droghe sono così pericolose che ci fanno anche sbagliare l'intro di Switch Hildon Mine E soprattutto che Domenico Bini è meglio di Slash Quasi dimenticavo piccolo off topic Se vi piacciono i fumetti Soprattutto quelli ironici, quelli divertenti Vi consiglio L'Uomo in Camicia Si tratta di un piccolo volume autoconclusivo I ragazzi che l'hanno scritto e disegnato Hanno dedicato una pagina proprio a Febbre da Chitarra Vi lascio il link per vedere la pagina dedicata al canale Qua sotto in descrizione Ok, stavolta il video è finito davvero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti